Meno quattro giorni all'uscita in tutte le librerie italiane di Troppo Neri, con Feltrinelli, le fotografie di Francesco Malavolta, quel fotografo amico mio fighissimo nell'anima e nell'animo, e le parole mie. Ho scelto oggi di leggervi in questa attesa rispetto all'uscita nelle librerie una frase con cui chiudo uno dei capitoli del libro. E ho scelto in questa frase oggi ora di leggervi perché il nostro, anche il nostro, ma lo è da sempre, è un mondo dove i più giovani vengono bistrattati, vengono richiamati all'ordine del comportamento corretto dai grandi che il comportamento corretto non l'hanno mai attuato, perché se l'avessero attuato probabilmente qualche fiume in meno sarebbe esondato e qualche merda in meno sarebbe uscita dai tombini e dalle fogne, e non mi riferisco in questo caso specifico ai fascisti, ma proprio alla merda che è uscita a causa delle piogge, che quelle ci sono state, ma non ci sono stati gli interventi di manutenzione prima e perciò hanno causato morte e danni. Vi racconto questo e ve lo dico per risottolineare ancora una volta l'affetto che provo per la classe non dirigenziale, cioè per le più giovani e i più giovani. Che fatica che siete chiamati a compiere ogni giorno. Ecco, io credo in voi e credo che possiamo ancora avere qualche speranza nella tasca, nello zaino, se vi lasceremo fare, se al limite e come forma massima vi daremo una mano rispetto alle vostre indicazioni. E allora in questo mondo adulto che protesta rispetto ai giovani, che non li capisce, i giovani che sfuggono dalle mani del controllo adulto per fortuna e viva Dio, mi stanno simpatici, proprio un afflato verso di loro. E ci ho chiuso in questa contrapposizione, grandi, grandi cosiddetti vecchi seduti, veramente seduti, non soltanto cosiddetti seduti, e giovani invece, giovani, cosiddetti giovani, ma che per fortuna lo sono davvero. Ecco, in questa contrapposizione io ho scelto da che parte stare. Per questo oggi, rispetto al conflitto giovani adulti, io dico confido nell'infedeltà dei più giovani, nella defezione, negli imbrogli, nella loro capacità di dimincolarsi, nelle loro scappatelle. Non nella loro obbedienza rispetto a un mondo respingente, ma confido nella loro possibilità di lasciarlo perdere, quel mondo lì, perché quel mondo lì ha fallito, ed è necessario costruire qualcos'altro di migliore rispetto all'esistente. Mi va di fare un altro tentativo, vi leggo una frase a caso nel mezzo, conto fino a 1, 2, 3 mentre lo sfoglio. 1, 2, 3, mi sono fermato qui, eccolo qua. Questo capitolo si intitola con un numero, è il numero che questo ragazzo giovane, anche lui, per caso, ma non del tutto per caso, aveva qui sulla maglia, sul collo della maglietta, un numero di telefono, che numero di telefono? Era quello della famiglia. Se lui fosse morto, se lo avessero ripescato, quel numero lì era l'indicazione del numero da comporre per avvertire la sua famiglia che almeno potesse mettersi l'animo in cosiddetta pace per una morte, la sua. Questo succede, talvolta partono con dei bigliettini nelle tasche, vi ricordate quel ragazzino partito con la pagella? Ecco, ecco, questo è troppo nero, ci vediamo in giro.